Ragazzi questo video non doveva uscire su questo canale ma semplicemente viste le precedenti esperienze che ho avuto in cui ho rischiato incidenti ho deciso comunque di mettermi la GoPro sul casco e di registrare anche se stavo andando a ripetizioni di matematica Ho deciso di tenere questa videocamera perché molto semplicemente qualche giorno fa ho rischiato di fare un incidente per colpa di una persona che si è messa a incolparmi di avere fatto cose che io in realtà non avevo fatto e anche questa volta ho beccato due imbranati che non sanno andare in strada quindi adesso godetevi questo video, dura poco ma questo dimostra l'ignoranza delle persone che sono in strada Perché sta gente qua capita solo a me? Cioè io in due giorni ho rischiato di fare lo stesso identico incidente perché la gente vede la moto sempre se mi ha visto e pensa vabbè ma tanto è una moto non è una macchina andiamo Non puoi fare un ragionamento del genere, è un ragionamento di merda cioè mi uccidi comunque Beh fatto sta che comunque ho la targa, non ci faccio nulla però io ho sempre la targa E un'altra cosa che non sopporto è la gente che non parte col semaforo verde Cioè voglio dire, guarda, prendiamo il rosso, niente, non si può Perché il mister sveglione, non dico di partire appena diventa verde come magari facciamo noi in moto perché poi abbiamo le nostre manie ed è vero ci piace partire subito col verde e far vedere la possenza delle nostre moto Porco Giuda che bella macchinina Non è che stai davanti al telefono a farti i cavoli tuoi al semaforo perché poi diventa verde Tu parti dopo mezz'ora e noi cari amici dietro non partiamo perché semplicemente prendiamo rosso Quindi che palle Ok Grazie a tutti